Lo sa che per me il dottor Morange è un mito? Lei è l'attore preferito di mia madre. Sono venuto a vedere come sta il mio amico Serge. E se ti proponessi una commedia a teatro? Sono anni che i copioni li uso per accendere il fuoco. Sono diventato un orso, lo so. Un orso? Ma smettila. Qual è la commedia che volevi propormi? Il misantropo. Testa, io faccio al ceste. Croce, lo fai tu. Beh, tocca a te fare al ceste. Ma ridammi l'euro, per favore. Sfacciata piageria, interesse, tradimento! Un giorno vi tradisse per privarvi di un bene un artificio ordisse. Se un amico per caso un giorno vi tradisse per... Ma porca puttana, inferna! Allora è ostinazione, perfezione, rispetta i versi. Preparazione, masturbazione, come vuoi tu. La conosci? Sì, è un'italiana, piuttosto antipatica. Ha malapena saluta. E poi devo dirvi che non sopporto gli attori. Sono troppo narcisisti. Noi siamo narcisisti? Sì, un po' ha ragione, tu puoi molto. Sa mia nipote, vuole fare l'attrice. Bella cosa la vocazione. Sì, ma di film porno. Confessando di amar senza ritegno, poiché l'onor nemico alla passione, si oppunca in forza a tale confessione. Alcesto e Filinto sono amici, la base della scena è l'amicizia. Appunto, l'amicizia non traspare, basta amicizia. Lei non è per niente Alcesto. Alcesto è un puro, è uno sincero. Nel tuo silenzio io mi perdono.